Sono le poche cose che incontano, sono le poche cose che servono. Si avvicina una notte di San Lorenzo indimenticabile nel grande prato della Pieve di Romena. Per il suo tradizionale appuntamento artistico dell'estate, la Fraternità ha infatti organizzato un grande evento, Simone Cristicchi e Amara in concerto con l'orchestra. Romena è il luogo del cuore dei due artisti che per questo hanno voluto preparare un concerto in data unica, una serata che non conoscerà replica e che si potrà vivere solo la sera del 10 agosto, la notte delle stelle. Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Simone Cristicchi, Amara e l'orchestra instabile di Arezzo, diretta dal maestro Walter Siglotti, ci regaleranno una serata di musica, di bellezza e di emozione, nel meraviglioso spazio verde affacciato sul casentino, accanto alla Pieve millenaria, per tappeto un prato e per tetto un cielo di stelle. E allora vi aspettiamo tutti per il nostro concerto alle stelle, la notte delle stelle cadenti, il 10 di agosto, nel prato antistante La Pieve di Romena, con le nostre canzoni, le nostre parole, la nostra musica.